Tra le nuove regole che prenderanno forma in un decreto nelle prossime settimane ci sono due fatti nuovi, la domanda a bordo sulla destinazione e l'accoglimento del paese di bandiera della nave. Intanto a Livorno è stato autorizzato lo sbarco di 63 migranti. Dopo Rise Vav, altre due navi ONG dovrebbero approdare nelle prossime ore in Italia. Il Viminale ha infatti già concesso l'autorizzazione allo sbarco dei 70 migranti raccolti la notte scorsa in area sar-libica dalla nave di Emergence Life Support. Stessa destinazione assegnata alla nave CI4 dell'omonimo ONG tedesca che ha a bordo 63 persone. Il suo portavoce dichiara al nostro TG che questo repentino cambio di strategia da parte del governo italiano, assegnazione del porto di approdo subito dopo il primo intervento di salvataggio, mira ad allontanare il più presto possibile le imbarcazioni ONG dalle aree di ricerca e soccorso per impedire la loro attività di salvataggio. Ieri sera era stato dato il via libera Rise Vav, la nave di un'altra ONG tedesca, Mission Lifeline, per l'approdo nel porto di Gioia Tauro. A bordo 27 persone salvate in un'operazione di soccorso nel canale di Sicilia. Mentre la Ocean Viking è salpata dalle coste francesi per una nuova missione di salvataggio, i tecnici del Ministero dell'Interno lavorano all'elaborazione del codice di condotta per le organizzazioni non governative che operano nelle aree SAR, ricerca e soccorso, del mar Mediterraneo. La bozza del codice di condotta che nelle prossime settimane dovrebbe essere licenziato dal Consiglio dei Ministri sotto forma di decreto conterrebbe anche la prescrizione che prevede l'obbligo per i soccorritori di chiedere immediatamente alle persone messe in salvo la manifestazione di interesse sulla domanda di protezione internazionale. In questo modo dovrebbe essere il paese di bandiera della nave ONG a farsi carico dell'accoglimento del migrante dopo lo sbarco. Altra norma prevede che la richiesta di assegnazione di portosicuro avvenga immediatamente dopo il primo soccorso e salvataggio di migranti in modo da evitare alle navi ONG di rimanere giorni in mare in attesa di altri possibili soccorsi. Il sottosegretario all'interno, Nicola Molteni, oggi ha spiegato che il decreto penalizzerà quelle organizzazioni che non rispetteranno le norme di condotta inserite nel provvedimento. Chi viola le norme, ha aggiunto Molteni, incorrerà prima in sanzioni amministrative, poi, se recidivo, anche in fermi amministrativi, fino alla confisca delle navi da parte dei prefetti.